Se le zone rosse funzionano e vengono consigliate, se lì c'è stata questa esposizione di centinaia di persone a un pericolo, credo che sia giusto. Dopodiché quello che non è giusto è lì c'era il vice sindaco che guidava il corteo, macchine, vigili urbani e dei carabinieri e non è intervenuto nessuno. Siamo un paese così, siamo un paese nel quale sono dovuti entrare i carabinieri in una chiesa perché c'era un prete che continuava a tenermesse, invitava la gente a violare il lockdown, basta, usciamo. Sarà anche lo stress da segregazione in casa, ormai andiamo vicino ai due mesi, però siamo un paese che dopo centinaia di ore di trasmissione, inutili. E lo saluti dal balcone. Tra l'altro so per certo che la famiglia del sindaco aveva invitato tutti a stare a casa, proprio per senso di responsabilità.